Bisogna darsi da fare, ma il darsi da fare vuol dire prendersi cura l'uno dell'altro e rendersi conto dei problemi che ci sono, senza voltarsi dall'altra parte, far finta che non esistano. È un impegno la responsabilità per tutti, quello rivolto alla comunità pistoiese e dalla diocesi in occasione della presentazione dell'annuale dossier Caritas. Un appello sintetizzato nella frase, ciascuno è responsabile di tutti e che dà il titolo al dossier. Purtroppo ci troviamo a dover presentare una situazione che a causa della pandemia si è molto inasprita nel 2020 e purtroppo non si vede un miglioramento, almeno nei numeri e anche nei fatti dai servizi, nei primi sei mesi del 2021. Il quadro descritto nel rapporto documenta per il 2020 una crescita di oltre il 19% sull'anno precedente degli accessi ai centri di ascolto e agli altri servizi dell'ufficio diocesano e del 3,3% nei primi sei mesi del 2021. Presentato al seminario diocesano di Pistoia, nel dossier si vede un aumento per il 2020 di quasi l'80% dei nuovi accessi con un calo dell'età media di chi chiede aiuto. Nel 2020 il numero dei nuovi contatti è stato il più alto di sempre, sono stati in tutto l'anno oltre 700 famiglie in più rispetto a quello che era lo storico, insomma il dato storico che sono all'incirca un quarto, un quinto del totale. La questione del lavoro, la questione appunto delle imprese, la questione del vivaismo, non si riesce bene a capire cos'è che non funziona veramente nel nostro territorio. Bisognerebbe metterci un po' i riflettori sopra e cercare di fare in modo che il nostro territorio che ha tante risorse, anche umane, possa essere un territorio positivo, di sviluppo sostenibile. Dobbiamo riuscire a lavorare maggiormente in sinergia e in rete con tutte le realtà del territorio, sia pubbliche che private, perché effettivamente questa situazione si combatte veramente, si prende in un momento in cui possiamo veramente lavorare per superare questa situazione, perché così non ce la facciamo. Noi possiamo fare tanto, stiamo facendo, però effettivamente abbiamo bisogno della maggior collaborazione di tutti quanti, ecco, certo di un lavoro di rete che certamente ci aiuterà a superare questo momento difficile che effettivamente sta durando da troppo tempo.